A gennaio dell'anno scorso ho iniziato a giocare a scacchi, volevo giocare così per, non so, una settimana, uno dei test che stavo facendo, volevo imparare a fare il cubo di Rubik, a memorizzare i mazzi di carte, a fare delle cose, e ho detto vabbè dai sta settimana piglio gli scacchi e poi smetto. Ho giocato una settimana e ho detto, ma sai cos'è, mi piacciono questi scacchi, magari gioco ancora un'altra settimana, da lì non mi sono più fermato e ho continuato a giocare, poi ho fatto un torneino su Cestocom, insomma una cosa tira l'altra e di fatto sono ormai immerso negli scacchi ogni giorno, però sono arrivato a un livello in cui non vedo come poter crescere e siccome il mio animo competitivo da ex pongista professionista mi spinge a cercare di migliorare, ho pensato, ma perché non fare una sfida che non dura una settimana quest'anno, ma che dura per il 2024, dove provo a cercare di migliorare al mio meglio? Allora giocando così, quando vedo quelli che hanno scritto 2000, no, sugli scacchi è presente che c'è il livello 0, manuscarsene 3 miliardi, poi c'è 2000 e dici, va questo è proprio uno bravo, e oggi io sono intorno ai 1500, quindi è possibile riuscire ad arrivare a quel livello lì, considerando che sono partito a gennaio dell'anno scorso e go 50, questa è la sfida e vorrei proprio fare un documentare, questo percorso, andando da 0, dove ero partito, fino ai 2000, però per farlo non posso farlo da solo, perché non ho proprio le capacità e quindi ho detto, mi serve un grande coach che mi dia una mano e mi seguo, una volta alla settimana ci incontriamo, mi aiuta un po' a capire e poi documentiamo questo percorso, che può essere utile anche a tutti gli appassionati di scacchi, o a chi magari scopre questo magico mondo, che è uno sport meraviglioso, e proviamo a vedere se riusciamo a ottenere questo risultato, non so se ce la faremo, però secondo me abbiamo delle buone chance, cominciamo. Pier Luigi, eccoti, il mio salvatore, ecco, a parte che sono felice, te lo stavo dicendo prima, super felice di iniziare questa challenge, ecco, non so come si dice, questo percorso per provare a vedere, insomma, uno quanto riesce a migliorare, mi hanno proprio preso tantissimo gli scacchi. Dove sei? In che parte del mondo sei? Sono a Livorno, nella bella Toscana, ti capisco bene, perché gli scacchi sono un gioco veramente appassionante, e quindi una volta che ci prendono è difficile scampare da questo abbraccio, e anzi, abbiamo voglia di essere sempre più bravi. Senti, Pier, per chi non ti conoscesse, diamo un minimo di contesto, perché se no uno dice, vabbè, Monti, hai chiamato un tuo amico, ma che ne sa lui di scacchi, insomma, cioè, magari, ecco, non è che fuori dal mondo di scacchi, uno magari sa esattamente tutte le attività, diamo un minimo di contesto. Sì, accanto al mio nome c'è una I e una M, che significa International Master, e un titolo sportivo, il secondo titolo sportivo più alto, subito dopo c'è il titolo di Grande Maestro, che è il titolo, per esempio, di Magnus Carlsen. Maestro internazionale in ogni paese, ci sono pochi giocatori con questo titolo, come anche in Italia, è un titolo che ho conseguito nel 2006, un anno in cui ho anche giocato con la Nazionale Olimpica, quindi sono stato un atleta di vertice, professionista, come tu sei stato, non un professionista nel ping pong, io lo sono stato per tanti anni negli scacchi, e da circa una ventina d'anni mi dedico anche all'insegnamento e alla formazione dei giovani giocatori. In particolare sono stato uno dei coach, sono ancora un coach della scuola Corsa dell'Eccellenza in Corsica, vicino a Livorno, proprio qui di fronte, che ha formato tanti campioni di Francia e un grandissimo campione, che è l'attuale campione del mondo Under 20, Marc-Andrea Maurizzi, in questi giorni lo potrete seguire nel Tata Steel Chess, il più grande evento di scacchi al mondo, questo ex allievo, oramai un allievo che ha abbondantemente superato il maestro, sta giocando con i migliori al mondo, e quindi la mia vita è questa, sono uno scacchista a tempo pieno, gioco ancora, ma un po' per diletto, e soprattutto insegno agli altri, aiuto gli altri a migliorare. Mi piace molto Pierluigi che insegna ai giovani, mi sento nella categoria, diciamo sono vecchio, diversamente giovane, ma sono giovane scacchisticamente. Sei un giovane scacchista, questa è la cosa fondamentale da capire, cioè uno scacchista è giovane a seconda dell'età, dal tempo da cui ha cominciato a giocare a scacchi, tu sei un giovanissimo, sei proprio uno scacchista alle prime armi, sei fantastica per un coach, è un materiale umano eccezionale, perché sei al tempo stesso giovane scacchisticamente, e con invece le qualità di un adulto. Senti, ho varie domande, prima di ovviamente mettere le mani sulla scacchiera, giusto per capirci, insomma con le persone che ci seguiranno, noi ogni volta, insomma, lavoreremo, ecco, non saremo solo qua a chiacchierare, però in questa prima puntata cerchiamo di smarcare gli argomenti principali. La prima domanda che ho è, io non ho idea dei livelli, ovviamente mi è chiaro che non diventerò mai magno scarsa, insomma questo mi è abbastanza evidente, però non mi è chiaro quanto sia difficile raggiungere un livello quando vedi questo ilo, che per le persone in ascolto magari non pratiche, è come dire il ranking, ha questo ilo, e dici quello è 1000, quello è 2000, quello è 2500. Mentre mi è chiaro, se tu mi dici a ping pong, a tennis, ti dico subito quanto sia difficile diventare, non so, nei primi 100 del mondo, nei primi 1000, nei primi 100 d'Italia, cioè è evidente lo sforzo che va fatto e anche il talento, perché magari uno può essere anche super volenteroso, ma non la tira dentro mai, insomma, quindi è chiaro che c'è anche un minimo di talento che deve avere. Quanto è fattibile questa challenge di dire arrivare a 2000 e quanto 2000, come lo classificheresti come livello per capire anche, insomma, che sfida abbiamo davanti? 2000 da sempre negli scacchi è la soglia della maestria, il nuovo millennio, quando uno cambia da 1 a 2 significa che veramente sai giocare a scacchi. Chiaramente prima di arrivare a 2000 ci sono tutta una serie di passaggi, tu hai fatto un sacco di strada perché sei passato da 0 a 1500, che è tantissimo e sei stato veramente bravo, perché davvero in un anno a fare questo, io conosco molte poche persone che riescono a fare questo risultato. Per darti un parametro, per stabilire quando un giovane è estremamente dotato, probabilmente fa un salto di 300 punti elo all'anno, quindi il tuo salto da 1.500 a 2.000 è un bel volo pindarico, stai dicendo ok, mi butto proprio avanti, però è chiaro che da 1.500 a 2.000 ci sono degli ampi margini di miglioramento, quindi credo che tu ce la possa fare, ho accettato questa sfida perché voglio vincerla, voglio che tu la vinca, e chiaramente siamo qui per farcela, e credo che tu ce la farai, francamente se dovessi puntare un centesimo, lo punterei su di te, credo che hai tutte le possibilità per farcela, però è una sfida molto difficile, quindi se ce la farai, ce la farai soltanto con tanto impegno. Allora, io una cosa che ho di carattere è l'impegno, non so perché, ma per dire l'anno scorso ho giocato più di 6.000 partite, per dare un'idea, cioè gioco in continuazione, ogni volta che magari è un vantaggio o uno svantaggio, perché a volte prendo e sono lì aspettando, non so, mio figlio è uscito dalla scuola, e poi devo interrompere perché sta uscendo, non è che posso dire aspetta, a volte ci provo, però poi non è il massimo come livello, però coach io mi impegnerò. Ho un'altra domanda invece che è questa, io mi ricordo da ragazzino appunto giocavo a ping pong, e un grande problema che tanti giocatori italiani, avevano era questo, non essendoci dei buoni allenatori di ping pong in Italia in media, c'erano alcuni buoni allenatori, però la media era una grande ignoranza, perché il ping pong in Italia non è uno sport molto conosciuto, quindi immaginati rispetto alla Cina, tu iniziavi a giocare, c'era un allenatore che ti insegnava a giocare in modo sbagliato, proprio come muovere le gambe, la posizione, poi a quel punto tu miglioravi, perché ti impegnavi, e arrivato a un certo punto, è stato il mio problema, mi sono reso conto che avevo imparato delle basi sbagliate, che poi ricambiare da grande era praticamente impossibile, e quindi ti porti dietro una serie di errori che ti rendono molto meno efficace rispetto a uno che invece ha una bella tecnica pulita, Quindi questo è un aspetto. Allora mi domando, secondo te io gioco da pochissimo ovviamente, però mi sono fatto da autodidatta una mia idea, cioè dei miei automatismi, quanto è difficile ricablare il cervello per ragionare in modo corretto e migliore? È possibile farlo? Anche c'è questo dubbio su dopo una certa età, magari, cioè uno comunque ha 50 anni e il cervello ragiona diversamente rispetto a mio figlio di 10 anni che gli dici fai così a basket e lui fa così, e dici, ma io non riesco a fare così insomma. Come la vedi? Allora, partiamo dalla fine. Riguardo all'età, gli scacchi sono forse in assoluto la cosa migliore che si possa fare per mantenere plastico e giovane il nostro cervello. Quindi innanzitutto ti stai facendo un gran bene, come chiunque faccia un'attività, diciamo intellettuale, fa un gran bene a se stesso. Poi tu hai al tempo stesso un vantaggio o uno svantaggio? Ovviamente non possiamo competere con i giovanissimi dal punto di vista proprio dell'infrastruttura, dell'hardware, però hai probabilmente delle qualità, anzi sicuramente delle qualità da adulto, quindi insegnare a te sarà molto più semplice che insegnare a un bambino, perché già sei capace di recepire molte cose, hai già delle strutture che puoi utilizzare, magari non sapevi di poterle utilizzare negli scacchi, ma nel momento in cui ti si accenderà una connessione e dirai benissimo, quindi questa cosa si fa così. Insegnare a un adulto è molto bello, è chiaro che tradizionalmente si insegna a giovani, giovanissimi, ma insegnare ad un adulto è molto bello, perché c'è sì questo superamento di alcune barriere che l'esperienza ci ha portato a costruire, a frapporre fra noi e l'esperienza, ma è anche la soddisfazione, perché poi l'adulto quando si rende conto che sta andando oltre quello che pensava di essere, è davvero una grande soddisfazione. Quindi credo che è un'arma a doppio taglio, un po' ti limita, ma un po' ti dà anche un vantaggio. Ok, quindi diciamo questo per l'età e per il fatto di aver imparato magari una tecnica sbagliata dall'inizio, come la vedi? Sì, e lì dobbiamo vedere come... Per esempio, ho visto già che hai un certo modo di giocare ben definito, che di solito si raggiunge dopo 4-5 anni nei quali un buon formatore fa giocare ai suoi giovani allievi un altro tipo di scacchi. Come se gli scacchi abbiano avuto una loro evoluzione storica. C'è stata l'epoca romantica in cui si giocava selvaggiamente, c'è stata l'epoca del gioco più posizionale, ci sono state tante epoche che si sono succedute. E un po' il giocatore di scacchi dentro di sé deve ripercorrere questa storia, per cui deve avere il periodo romantico, eccetera. Tu sei passato direttamente a un tipo di scacchi già fatto e finito. Hai saltato a pie pari tutta una fase, è come se anziché... gli scacchi hanno una storia multisecolare, è come se tu sei passato direttamente al 2023. Esatto. Che va benissimo, perché alla fine è la cosa più performante, sono gli scacchi più performanti che ci siano. Però dietro questo, ovviamente ti sei perso dei pezzettini, ti sei perso... Ma lì non preoccuparti, perché tanto si riescono a recuperare queste informazioni. Sono convinto che non sarà un problema. Fantastico. L'ultima perplessità che ho prima di mettere mai sulla scacchiera è questa. Io per entrare più nel tecnico ho deciso così, di mio ecco, magari è stata una scelta stupida, però ho pensato quando gioco a scacchi inevitabilmente non ho il tempo di studiare tutte le possibili aperture col bianco, cioè ci sono miliardi di variabili. Allora ho pensato, prendo un'apertura col bianco, un'apertura col nero, come dire, come mia guida di base e cerco di padroneggiare quella. Ho messo, ho preso due videocorsi, uno di Banzea sulla Karo Khan Simplified e l'altro, cosa ho preso? Sulla Jobava London, ho preso il corso di Hans Niemann, pazzo furioso, che dice poi delle robe che dico, boh, non ho proprio capito, è un repertoire e poi ne ho preso un altro della Jobava di uno inglese, Ginger Coach, non so, non mi sono piaciuti né uno né l'altro, forse non li ho capiti io, mentre dice Banzea mi è più comprensibile e quindi ho detto basta, faccio questo e poi chiaramente questo ti mette tutta una serie di limiti, perché a volte mi sento proprio robotico, cioè io faccio, qualunque cosa tu faccia, io faccio sempre identiche cose, Che di questo è un aspetto, mi domando, è una strategia che ha senso, la rivolteremo completamente, cioè non lo so, ecco, avevo questo dubbio. È una strategia che ha molto senso, ripeto, è la strategia più performante, cioè tu da solo, con buon talento, buona intuizione, ti sei costruito le armi giuste per vincere fondamentalmente. ora però, quei momenti nei quali magari non sai bene cosa fare, perché poi finito, diciamo, lo schema, no, abituale, nel quale le cose si ripetono più o meno simili, e beh, poi a un certo punto non si può più sempre ripetere la stessa cosa, bisogna un po' capire quello che succede, c'è il medio gioco, c'è il finale, no, c'è tante altre fasi della partita che vanno al di là dell'apertura e degli sviluppi tipici di una sola apertura. Quindi quello che faremo non sarà cambiare, perché noi abbiamo un obiettivo agonistico, dobbiamo vincere, quindi quando si deve vincere... Non stiamo qua a divertirci, Piero. Non stiamo qua a rifare il mondo, esatto, non stiamo qui a rifare il mondo, stiamo qui a fare in modo che tu, con quello che hai in questo momento, diventi il miglior monti possibile per raggiungere i 2000 punti. E per fare questo non è che possiamo stravolgere tutto quanto, però cercherò in parallelo a queste fasi tecniche di farti lavorare sul fondo degli scacchi, quindi sulle idee strategiche, sui modelli, sulle partite classiche, sui finali, sui medio giochi, su alcune idee e soprattutto, che poi è quello che cominceremo a fare oggi, sulla cosa più importante che c'è per un giocatore di scacchi, che sembra banale dirlo, ma è il puro e semplice calcolo e padronanza degli strumenti tattici negli scacchi. C'è la tattica e la strategia, questa è una grande, grande, grande differenza. E negli scacchi ti garantisco che la cosa di gran lunga più importante è la tattica. Quindi se tu raggiungi per esempio un livello 2002 tattica, anche se in tutti gli altri parametri del gioco sei molto sotto 2000, diventi sicuramente 2000. Wow, wow. È incredibile quanto sia simile a ping pong gli scacchi, te lo dicevo quando ci siamo sentiti. Perché, ed è incredibile per me a volte vedere come a scacchi ragiono da dilettante, cioè il pongista che in me vede lo scacchista e si rende chiaramente conto che il ragionamento è un ragionamento da dilettante, mentre invece se io gioco a ping pong non mi concentro su, cioè, perdo un punto, un altro, non è un problema, è la strategia complessiva che ho sta funzionando meno, a volte sacrifichi, non so, volutamente sacrifichi un punto perché è funzionale rispetto a quello che stai costruendo a livello proprio strategico del match. E invece nei scacchi sono proprio così, in automatico, no? Cioè, non ho quella cosa lì. E poi ho dei momenti dove non so proprio cosa fare. Sono lì che dico, boh, e adesso, adesso non lo so, ecco, e quindi ti senti proprio a disagio. Ecco, questo è un po'. Bisogna cambiare la domanda, no? E adesso cosa faccio? E la domanda sbagliata. Bisogna fare, bisogna sostituire la domanda e adesso cosa faccio? Con delle domande inerenti alla posizione, no? E in questa posizione che... qual è l'elemento più... Però poi vedremo come si fa questa cosa. Comunque la riflessione sul ping pong è meravigliosa perché a me piace giocare a ping pong e il fatto che si possa fare un sacrificio, negli scacchi si dice sacrificio posizionale, cioè un sacrificio che non ha un ritorno in termini concreti, ma è un sacrificio che costruirà poi una posizione migliore. Cioè che si potesse fare nel ping pong c'è una cosa assolutamente nuova. È incredibile, ti faccio un esempio, io ho vinto il titolo italiano seconda categoria un anno, ma c'è prima categoria seconda categoria bla bla bla, insomma ho vinto il titolo italiano seconda e l'ho vinto in pratica, ho giocato con un giocatore che era bravissimo di dritto, ok? E quando rispondeva al servizio stava dalla parte del rovescio come tutti quelli forti di dritto per subito attaccare no col dritto. Quindi come dire lasciava spazio sull'angolo del dritto perché era come dire pronto ad attaccare. E quindi io praticamente ho vinto il match nei primi tre punti perché al secondo servizio che ho fatto ho volutamente servito lungo sul suo dritto e lui sapendo che lui mi avrebbe tirato una cannonata avrebbe vinto il punto. però l'ho fatto per mettergli il dubbio di dire guarda se ti sposti troppo di là sul rovescio io vado immediatamente a e quindi lui non ha più aggredito il servizio perché era sempre in dubbio di dire adesso mi batte di là e avea questo e quindi ho vinto un match esclusivamente con un sacrificio perdendo un punto ho vinto il match però questo tipo di ragionamento degli scacchi non ce l'ho minimamente ecco quindi questo sarà da avere basta parliamo non ce l'hai ancora non ce l'ho ancora non ce l'ho ancora coach va bene allora io qua condivido questa scacchiera che è una scacchiera di test su chess.com non so se vuoi spiegare cos'è non è un match è un'aula è un'aula virtuale dove possiamo simulare è un'aula è una scacchiera condivisa nella quale il maestro e l'allievo possono fare entrambi le mosse oggi la useremo in questa prima fase per un test Monti ti faccio ti metto subito alla prova serve a te serve a me serve per capire un pochino a che punto sei con quello che si definisce pensiero scacchistico concreto negli scacchi come vi dicevo prima c'è questa distinzione fra strategia e tattica la strategia più di lungo termine più a distanza la tattica più ravvicinata il contatto diretto fra i pezzi ed è il pensiero concreto cioè vedere come i pezzi si spostano si muovono si attaccano si mangiano si difendono si fa scacco si fa scacco matto sono le operazioni di base quindi una frase famosissima di un giocatore del passato che si chiamava Teichman dice che gli scacchi sono al 99% tattica e questo è vero questo è verissimo è una grande verità perché? perché la tattica indica semplicemente è il fatto che c'è una relazione fra ciascun pezzo sulla scacchiera si toccano tattica viene proprio dal fatto di tattile si toccano uno con l'altro come si toccano? mangiandosi quindi se noi riusciamo a vedere questo reticolo di reciproche prese fra pezzi bene e capire come cosa succede e beh a quel punto padroneggiamo tutto quello che succede sulla scacchiera siamo invincibili una cosa importante io non so inizio a capire un po' quando uno dice non so c3 f8 a memoria non li so ecco diciamo non conosco la scacchiera non so bene vagamente quando dici h5 io devo pensare dove è h5 la aspetta 1 2 3 4 5 ecco quindi questo è il livello mio di conoscenza della scacchiera giusto per essere si e lavoreremo anche su questa è la visualizzazione la visualizzazione il calcolo mentale sono tutte cose molto vicine però la tattica indica proprio la relazione fra pezzi e ti darò un metodo per leggere tatticamente la posizione dopodiché c'è il calcolo qui questo esercizio per esempio è fondamentalmente un esercizio di calcolo mentale andare avanti perché perché c'è già un testo ben definito cioè qui il bianco con un gioco perfetto muove e fa scacco matto in due mosse ti chiedo soltanto di trovare le due mosse che fanno scacco matto portarti avanti col pensiero questa è facilissima perché io vado scacco regina c8 lui deve mangiare non c8 scacco e poi faccio matto del corridoio con torre f8 fantastico fantastico questo è il matto del corridoio come giustamente dici l'ultima traversa dove c'è il re è definita corridoio quando il re non ha una casa di fuga gli diamo questa specie di matto affogato il tatticismo tipico lo strumento tipico quello che hai usato facendo donna c8 scacco si chiama deviazione cioè allontani un pezzo che in questo caso non difendeva però impediva alla torre di venire in f8 ok andiamo avanti esercizio successivo questo lo conosco perché lo prendo spesso il matto del corridoio spesso faccio tutto il giusto e poi dico cazzo non ci posso credere in questa posizione c'è sempre un matto in due mosse adesso vedrai perché uno era un matto costruito cioè un matto con una posizione nota questo è un matto di puro calcolo devi soltanto calcolare trovare qui non ti aiuta nessuno è proprio calcolo e basta ok allora io ti dico come ragione io parto dal re e penso beh mi hai già dato un aiuto dicendomi che posso dare un matto perché questo è spesso il problema uno dice boh magari non c'è matto qua non lo so quindi provo a pensare cosa posso attaccare posso mangiare qualcosa posso dare scacco da qualche parte però parto dalla posizione del re e provo a pensare bravissimo questo è il metodo giusto poi lo perfezioneremo lo renderemo più affilato però il metodo è giusto ok molto bene ok ovviamente sapendo che un matto in due è molto probabile che sia scacco e matto molto molto probabile che sia una sequenza forzantissima di questo tipo ok allora dunque gli scacchi che vedo vedo posso muovere i pezzi? certo per farti vedere degli scacchi allora vedo parto da qua vabbè c'è uno scacco con l'alfiere che potenzialmente è uno scacco possibile però da qua poi non vedo evoluzioni perché è facilmente uccidibile anche col re anche correre anche correre ok proviamo Monti proviamo a non muovere i pezzi ok ok poi c'è proviamo a dirlo a voce proviamo a non muovere i pezzi ti aiuterà molto diciamo nel costruire il comensiere ok c'è uno scacco col cavallo in H7 che che toglie la torre di mezzo questo scacco se non ci fosse torre per H7 se la torre non potesse mangiare il cavallo sarebbe matto sì o no? sarebbe matto sì sì perché a quel punto quindi chi impedisce di fare cavallo per H7 matto abbiamo trovato un matto chi impedisce di fare cavallo per H7 matto la torre e in questi casi che si fa? posso eliminare la torre banalmente ok quindi sacrifico la regina hop e lui a quel punto il re non può andare dunque abbiamo il l'alfiere che copre tutte le case bianche quindi non può andare lì non può andare no è matto questo deve mangiare deve mangiare con l'alfiere perché è la seconda mossa come fai matto qui? esatto cavallo per H7 matto molto bene allora il modo di ragionare è corretto diciamo che dobbiamo un po' insistere sul calcolo mentale vedere come riesci a immaginare le cose adesso complichiamo un po' questa mi sembra complicata ora complichiamo un po' le cose ora complichiamo un po' le cose esercizio numero tre è un matto in tre un matto in tre da parte del bianco stiamo lavorando sulla profondità può anche essere che semplicemente un matto in tre stiamo andando troppo oltre quello che in questo momento riesci a vedere non lo so ti ho detto è un test non sentirti neanche ok matto in tre con il bianco? sì il bianco muove il nero risponde il bianco muove il nero risponde il bianco fa scacco matto ok wow difficile eh? che un matto in tre in realtà sono ben cinque semimosse cioè tu ti stai spostando col pensiero cinque volte in avanti però puoi usare lo stesso metodo di prima cioè vedi prima le mosse più forzanti le mosse che costringono a una e una sola mossa l'avversario ma allora parto da torre H5 ok a questo punto il re da qualche parte deve andare un attimo solo un attimo solo introduciamo questa nozione di mossa forzante che tu già conosci mossa forzante significa che costringe l'avversario a fare qualcosa giusto? si ok però fra mosse forzanti per esempio ci sono mosse che costringono l'avversario a fare soltanto una mossa perché tutte le altre non può farle torre H5 non è che costringe il nero a fare soltanto una mossa costringe il nero a fare tre mosse magari no? re g6 re f6 esatto l'unica mossa forzante che vedo è torre f6 bravo sacrificio di torre e il re deve mangiare però c'è anche donna per f6 a quel punto sono due risposte torre f6 scacco posso fare donna per f6 posso fare re per f6 ah giusto hai ragione c'è anche invece c'è una mossa proprio forzantissima cioè il nero non è che può fare un'altra mossa deve fare soltanto quella regina g4 bravo donna per g4 scacco donna g4 scacco e a quel punto l'unica mossa che può fare è mangiare la donna bravissimo adesso fermati perché devi dobbiamo allenarci nel calcolo mentale devi andare avanti senza muovere i pezzi guardando la posizione chi è chiara la posizione il re nero dove sta g4 bravissimo adesso continua a fargli scacco e matto dai un altro beh a quel punto uno scacco che abbiamo è in h4 h4 con che pezzo h4 con pedone pedone h4 h3 h scusami h3 è vero perché il re in g4 h3 h3 scacco e l'altra mossa forzantissima perché non ha altre risposte dove va il re il re a quel punto si torna in f5 unica mossa e come gli fai matto pedone g4 bravo complimenti hai trovato un matto in tre puoi fare le mosse sull'asca ok si quindi mangio con la regina lui deve mangiare avanti scusami lui deve mangiare hop h3 lui deve tornare di qua e a quel punto bravo ha chiuso così è bello no? questa è una dei grandi piaceri che gli stai siamo signori del futuro possiamo come dire costringere il futuro a essere come vogliamo che sia questa visualizzazione non è per niente facile a volte quando magari provo a visualizzare il problema che ho è che visualizzo in modo sbagliato come adesso per me il re era una casella in su ho detto h4 perché il re era su è una delle cose che diciamo credo di aver notato guardando le tue partite ed è anche una cosa del tutto naturale data la tua giovane età quindi è come se il tuo pensiero concreto quello che stiamo costruendo pensiero scacchistico concreto ancora non è formato ti mancano delle cose che si creano veramente con l'esercizio ok quindi lavoreremo molto 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 su questo aspetto della visualizzazione e del calcolo mentale questa è la prima parte più importante di tutto quello che io posso fare per aiutarti se riesco se riusciamo bene ad andare avanti su questa cosa se tu fai un salto nella visualizzazione e poi a quel punto sarà anche un salto nell'anticipazione e abbiamo fatto un bel pezzo di strada ok adesso prendiamo un altro esercizio non subito il 4 ti voglio far fare il 5 questi esercizi come dire li hai partoriti nella notte con tutta la cattiveria di tortura possibile e immaginabile cioè come li hai partoriti questi esercizi sì sono esercizi che ho fatto io o che ho selezionato io ed è un test di ingresso che da tanti anni ormai utilizzo quando faccio la prima lezione con degli allievi perché in ogni posizione posso proprio studiare il funzionamento dell'allievo e capire bene che cosa ha e che cosa gli manca ogni posizione serve per esempio la prima hai visto che era facilissima perché è un riconoscimento di un pattern esatto uno schema ben noto ok fantastico la seconda è un po' casuale è un po' random perché caspita c'è un matto strano c'è un matto che non si è mai visto prima però lì ci si arriva la terza è in profondità andare avanti visualizzare questa è un'altra mi serve per verificare un'altra competenza diciamo è un test test che è calibrato per vedere a che punto il tuo pensiero scacchistico è sviluppato ok bene qui sono sempre col bianco sempre col bianco cioè c'è un matto eh no qui la differenza è che non c'è un test qui il testo è il bianco muove e vince ah ok ma non dà matto il bianco muove e vince voglio vedere come ragione il bianco muove e vince il bianco muove e vince se lo dici tu mi fido insomma garantito al 100% ok dico distinto che cosa cosa vedo subito prime idee al volo se mangiassi con la regina in E5 la torre e lui rimangia col pedone mi si libera la colonna F della torre molto bene e questo chiaramente mi porterebbe potrei andare con la mia colonnina con la mia torre in F8 e lì mi domando dove va il re però dove va il re vediamo se lo vedi intanto vediamo se visualizzi bene e il re può andare in D7 bravo perché non può andare da altre parti ho il pedone in B6 che copre le caselle le case le case della A7 e C7 e quindi come dire questa sarebbe una buona posizione però ho perso la mia regina dorata io da amatore non lo voglio perdere mai non è neanche quello il problema non è neanche quello il problema Monti quando tu fai donna per E5 è una mossa quanto forzante no lui in realtà può anche non mangiare quindi che fa potenzialmente ah può scendere in in G2 mi da matto matto ok allora questo è un aspetto molto importante dobbiamo introdurre nel tuo calcolo l'avversario ok una cosa normale perché tu hai giocato diciamo in questa prima fase con avversari non di un livello tale da dover necessariamente prevedere quello che fanno perché spesso fanno degli errori quindi a un certo punto farà una mossa magari mi regala un pezzo no invece giocando con avversari forti che non fanno errori sei costretto a capire bene quello che ce l'ho ce l'ho ce l'ho è facile è facile mangio questo è forzato bravo bravo io mangio di regina a questo punto bravissimo ha due opzioni in realtà il re potrebbe anche andare qui però è matto grande 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 oppure l'altra opzione è che invece mangia e a quel punto scendo e e do matto bravissimo in realtà non ho calcolato non ho calcolato se per dire avesse una copertura per dire se la regina magari copriva una casa della come si dice colonna 8 della dell'ottava attraverso beh ecco se copriva una casa dell'ottava attraverso e magari si proteggeva con la torre e io ho finito di vivere perché magari questa torre la protetta la regina ecco questo non lo neanche guardato a dire la verità bravo però hai trovato ok molto bene allora per cosa mi serve questo questo è quello che io chiamo segui gli scacchi ok follow the checks perché perché la mossa più forzante che esiste negli scacchi è proprio fare scacco allora Monti dando una proprio una gerarchia ben definita delle mosse forzanti che quindi sono le prime che devi guardare nelle posizioni tattiche la mossa più forzante che esiste è lo scacco e in particolare lo scacco doppio lo scacco doppio è la mossa più forzante che ci sia perché su uno scacco doppio non posso neanche mangiare il pezzo che fa scacco devo per forza muovere il re non posso fare non posso fare nient'altro quindi lo scacco doppio lo scacco che non ammette altra mossa tipo donna per g4 che è nell'esercizio precedente in seguito l'altra mossa molto forzante è la minaccia di matto perché spesso si sopravvaluta il valore della cattura brutalmente in tanti testi c'è scritto scacco cattura minaccia come ordine gerarchico delle mosse forzanti invece no lo scacco sicuramente la minaccia di matto dopodiché viene la cattura di un pezzo molto importante però ovviamente anche la promozione di un pedone potrebbe essere la stessa stregua cioè è più importante catturare un cavallo o promuovere un pedone a donna è più importante ok quindi se tu c'è ben chiaro questo ordine gerarchico comincia sempre dagli scacchi primo compito devi essere capace in tutte le posizioni che giochi di dar conto degli scacchi che hai tu e che hai l'avversario dar conto significa calcolare farlo nella mente muovere nella mente come abbiamo fatto insieme e valutarne le conseguenze già questo è un primo controllo che se tu vuoi arrivare a 2000 un giocatore con 2000 è capace in ogni posizione di sapere esattamente lo scacco se è buono o se non è buono ok? quando dici se è buono o non è buono se se sono in grado di dare uno scacco forzato intendi? no se le conseguenze dello scacco che in quanto mossa più forzante è la prima che devi prendere in considerazione se le conseguenze sono a tuo vantaggio oppure ok ok perché ad esempio io potrei mangiare il cavallo in B8 e perdere la torre senza nessun tipo di conseguenza ad esempio per esempio però in questa posizione come in tutte le posizioni tattiche sempre devi partire dagli scacchi e che si fa? bisogna avere pazienza fai la mossa nella tua mente vai avanti fai la mossa migliore per l'avversario vai avanti finché non arrivi a una conclusione ci vuole tempo ci vuole tempo energia pazienza poi il vantaggio qual è? una volta che questo metodo lo acquisisci non è che ogni volta dovrai calcolare in un attimo ok questa è così punto e basta però all'inizio fondamentale innanzitutto gli scacchi che tu sia capace di dar conto in tutte le posizioni di tutti gli scacchi che ci sono follow the checks a volte vinci a volte vinci basta vinci scacco 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 ok andiamo avanti ne facciamo ancora uno il mio cervello sta sento che ha una combustione interna fa se vedi dei capelli che iniziano a uscire perché questo è molto carino questo è muove il bianco e vince il bianco muove e vince questo mi serve per la lunghezza qui la risposta è un po' lunghetta ma non è molto difficile perché o meglio non è molto complicato perché ci sono pochi pezzi è semplice in realtà è difficile qui la difficoltà è quella di immaginare tanti movimenti dunque la mia prima reazione è o vado in verticale o vado in orizzontale quindi una prima idea è io parto torre di tre scacco ok ok giusto torre di tre scacco per esempio usiamolo come calcolo mentale d'accordo? facciamo le mosche facciamo le mosche torre di tre scacco re c7 re c7 torre c1 scacco torre c2 ecco se torre c2 questa è una bella domanda perché a quel punto mi ritrovo io e la mia torre se mangio in riflesso riflesso rispetto a quello che ti ho detto prima quali mosse devi vedere? gli scacchi bravo quali sono gli scacchi possibili? vedrai che quando c'hai un metodo diventa tutto più semplice quali sono gli scacchi? ce ne sono due in questa posizione no? beh c'è c'è uno scacco con torre c3 molto bene torre c3 scacco cosa fa il nero? mangia giusto torre per c3 se no mangi tu la torre in c2 esatto torre per c3 tu che fai? io mangio mangio torre c3 torre per c3 scacco scacco si muove a quel punto a varie posizioni dove può andare? di ne una di ne una di ne una di 8 di 8 io mangio torre h2 a quel punto dopodiché vado a dominare che non so mai bene come dare scacco però vado giù e in un qualche modo lo uccido ti insegno in un minuto questa cosa bravissima allora vedi sono molto contento francamente non pensavo che avresti trovato questa soluzione molto bene quindi abbiamo scoperto che se lui si mette in mezzo con la torre abbiamo questo trucchettino di fare scacco e gli mangiamo una torre giusto? si torre d3 scacco re c7 torre c1 scacco re b6 torre c1 scacco re b6 torre b3 scacco scacco e qua siamo nella stessa situazione se lui va sulla traversa a colonna se va sulla colonna a se va sulla colonna a do matto con e1 a1 torre a1 scacco o meglio non do matto con torre a1 aspetta aspetta torre a1 concentrati sulla posizione guarda proprio come se fosse come se si fossero mossi i pezzi torre a1 scacco li vedi i pezzi dove stanno? questo è molto difficile siamo andati molto no ok allora il re nero sta in a5 ok quindi lo stai acchiappando con la torre hai fatto torre a1 scacco sì e l'altra torre è in b3 bravo la torre bianca sta in b3 io adesso faccio torre a2 sì tu che fai? faccio come prima a questo punto faccio torre a3 scacco torre a3 scacco io faccio torre per a3 no io ho una torre scusami ho in a1 ho una torre in a1 che ha fatto scacco io ci ho messo in mezzo la torre mia torre a2 e tu hai fatto torre a3 ah ok esatto torre a3 e quindi tu mangi torre per a3 unica mossa se no prendo matto torre per a3 ok a questo punto ok mangio torre a3 scacco ok il re si deve muovere eh no e questa è la differenza che devi sostituire il re si deve muovere con una mossa precisa capito? questa è la difficoltà perché ok se il re andasse in una casa a casaccio fai re per h2 e mangi la torre è facile però lui può venire in b4 e non vinci più e non vinci più no quindi aspetta l'idea è perfetta giusto soltanto l'esecuzione è stata leggermente imprecisa puoi fare la stessa cosa un pochino meglio e vincere hai tutti gli elementi cioè ti frega alla fine il fatto che la torre sta in a3 e lui fa re b4 e ti attacca la torre se la torre non stesse in a3 ma in un'altra casa sulla colonna avresti vinto ok quindi da dove riparto dall'inizio ok torre d1 scacco bravo bravo ripercorri le stesse mosse re va in c7 torre c3 scacco re va in b6 torre b1 scacco re va in a5 e che mossa fai sul re a5? prima ho fatto torre a3 scacco prima hai fatto torre a1 perché adesso la torre sta in b1 la torre sta in b1 ok quando ti senti perso che succede a tutti ricomincia da dire piano piano torre d1 scacco proprio si devono muovere tu li devi vedere che si muovono questi pezzi torre d1 scacco re c6 c3 torre c3 scacco re b6 torre b1 scacco quindi sappiamo dove sta la torre sta in b1 re a5 e adesso? se andassi invece in alto con la torre che già me la son persa torre c5 scacco no 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 il matto è quello che abbiamo visto prima ci siamo arrivati ci siamo arrivati ci siamo arrivati rifai torre d1 scacco ok lo tagliamo colonna per colonna torre d1 scacco re c7 torre c3 scacco torre b1 scacco re a5 questo è tagliato il re se tu gli fai scacco sulla colonna è matto ok però se porto la torre in a3 si ripropone il problema di prima no perché dove va il re scusa torre a3 dove va il re da nessuna parte matto e perché prima invece lui è riuscito a mettere la torre in mezzo? perché facevi scacco sulla prima torre a1 scacco torre a2 ah sì giusto ok vabbè qui hai fatto una cosa molto difficile francamente si è andato molto è questo io sono bravo bravo si muove così faccio questo ok no no certo vedendola così è facile è ovvio che hai visto hai visto questa è la tecnica tipica quando tagli il re su queste due colonne adiacenti alla fine della scacchiera al bordo della scacchiera è diciamo il cosiddetto matto degli scalini si può chiamare perché è uno dei matti di base matti fondamentali prima non funzionava perché ti faceva torre a2 adesso invece funziona e se cerca di mettere in mezzo la torre prima gli fai quel trucchetto con torre b3 e rimane in difesa della torre in h1 chiaro ok ok allora Monti questo è il succo della prima lezione la prima lezione è necessariamente tattica e pensiero concreto dobbiamo costruire un'ottima visualizzazione ok ti do delle notizie buone nel senso che è la cosa dammi prima le buone e poi le orribili no le orribili non ci sono le orribili è che è faticoso come hai detto tu ti senti stampo lo so che è faticoso cioè all'inizio questa è proprio la preparazione fisica stiamo partendo dalla preparazione fisica stai facendo bodybuilding stai facendo grossi grossi sforzi muscolari ok e chiaramente non sei allenato non sei pronto ancora a fare questa cosa quindi bisogna andare piano piano bisogna crescere l'intensità piano piano questo è l'aspetto negativo la fatica diciamo il fatto che giustamente c'è la gocciolina di sudore no mentale ma l'aspetto positivo è che innanzitutto è una cosa bella perché vedi delle belle posizioni scacco matto i trucchetti la tattica le astuzie eccetera e poi è la cosa in cui si migliora di più ok di più è la parte degli scacchi in cui si migliora di più però ci vuole costanza per cui io ti darò metodo e lavoro ok adesso ti riorganizzo un po' se tu me lo consenti la tua settimana scacchistica vai ok ok allora ho notato alcune cose ho notato che in alcune partite giochi molto bene con intensità e in altre partite invece commetti delle sviste troppo grandi che non ci possono essere ok questo significa che hai giocato la classica partita di troppo che ne gioco ne gioco una marea di troppo e alle tre di notte quindi questo non aiuta probabilmente nella performance quindi siccome noi stiamo facendo una cosa comunque seria una sfida difficile e ambiziosa io ti proporrei di vedere le partite che giochi come una tappa di avvicinamento all'obiettivo finale quindi regola numero uno del giocatore in questo caso neanche del giocatore di scatti mai sedersi a un tavolo se non sai quando ti alzi ok è vero o non è vero troppo rischioso giusto? quindi io ti propongo questa routine nei giorni in cui giochi giochi due serie di partite soltanto una serie di quattro e una serie di due ok la prima serie di quattro partite cioè tu sai che quando ti stai sedendo in quel momento hai il tempo e l'energia per giocare quattro partite soltanto fatto la quarta tu anche se le hai vinte tutte e quattro anche se sto dominando sono nella forma è come andare a casino se la quarta vinco esco ok esatto ok quattro perché così ti responsabilizzi tu sai che ce n'hai quattro non ce n'hai infinite quelle sono e le devi giocare bene la seconda serie la fai di due perché sarai stanco sarà a fine serana conceditela come un momento piacevole per finire la giornata ok ma non andare nel fatto che ne gioco quante ne voglio perché tanto sono infinite le partite quattro e due sei fai sei partite al giorno in queste due serie ok ok questa è lo so che è una cattiveria perché è bella una cattiveria questa cioè io che ne gioco sessanta in un giorno ok e ancora sono ancora più cattivo ho pensato un'altra cosa ancora più cattiva un giorno chiaramente noi oggi abbiamo fatto lezione quindi dopo puoi giocare come vuoi se ti senti di giocare sei partite fai sei partite di solito a me per esempio quando facevo lezione quando ero io studente mi piaceva giocare dopo aver fatto una lezione mi sentivo bene però tu come ti senti ok poi ti chiederei di fare questa cosa un giorno non giochi ti autopunisci e risolvi invece gli esercizi che ti do ok per cui di fatto esercizi li faccio solo un giorno a settimana no puoi anche farli tutti i giorni però quelli che ti do io li fai tu sai che in un giorno ti devi dedicare a questa cosa puoi anche fare gli esercizi che ti do io un po' ogni giorno e poi quel giorno ne fai un po' di più o li mischi con altri non preoccuparti però diciamo voglio veramente costruire il tuo pensiero scacchistico ho bisogno che tu faccia una certa quantità di ore di lavoro di impegnarti non giocando ma risolvendo posizioni con le cose che per esempio oggi abbiamo detto no prima cosa gli scacchi tu guarderai le posizioni perlomeno voglio che tu mi sappia dire tutti gli scacchi che ci sono se c'è una sequenza bam 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 no che porta la vittoria scacco 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 la devi assolutamente vedere va bene dammi una tua previsione diciamo temporale non come classifica la classifica in realtà è come dire una roba divertente giusto per avere un obiettivo ma la classifica si prende cura di se stessa come dire se tu migliori come giocatore poi avrai la classifica che hai insomma non è quello che però quanto tempo secondo te ci si mette a sviluppare è ovvio che ci metti degli anni però nella tua aspettativa cioè tra un mese tra due mesi dove che traiettoria hai in testa cosa pensi che le prime tre settimane sono fondamentali secondo me cioè le prime tre settimane se tu lavori bene ti servono soprattutto a cambiare atteggiamento quando giochi a cambiare diciamo il comportamento sulla scacchiera poi tutto quello che cominci a fare col buon comportamento sulla scacchiera lavora per te per cui ogni minuto che passi anziché valere uno varrà cinque quindi entriamo e più il tuo comportamento sulla scacchiera è buono più il tempo che passi sulla scacchiera ha valore quindi a quel punto inneschiamo un circuito virtuoso nel quale migliorerai sempre di più anche se alla fine è più difficile migliorare per cui attenzione io sono molto molto convinto che tu arriverai rapidamente impegnandoti che ne so a milleotto per esempio sono molto convinto di questa cosa ovviamente i pezzetti finali sono più impegnativi sono più difficili cominci a giocare con giocatori che quelle qualità che stiamo costruendo ce le hanno già da anni probabilmente certo quindi lì devi essere molto molto bravo devi superarti un pochino ti faccio una domanda a volte il match finisce subito in apertura perché non so uno fa la Anglum Gambit non so cioè fa un'apertura che io non conosco bene match finito insomma nel senso perdo subito come io farò solo le mie quattro partite ma includo nelle mie quattro partite anche match che vanno così così al contrario magari ho delle sequenze purtroppo sì purtroppo sì e per esempio il tempo che avresti passato giocando puoi semplicemente che ne so prenderti un quadernino e dire bene cosa è successo oggi è successo che questa cosa non la conoscevo mi ha messo in crisi ho perso subito perché e allora puoi fare una ricerca o puoi scrivermi possiamo guardarlo insieme quindi queste quattro partite in cui ti impegni molto è chiaro che se succede una cosa drammatica all'inizio ci rimani male e a quel punto non succederà più la volta successiva ok l'inizio della partita non è così importante è ovvio che diventa importantissimo se la partita finisce lì però è una fase che tutto sommato uno ci può cascare una volta in un tranello però non è che ci cascherà di nuovo quindi non fa niente giocare una partita ti serve per cadere in quel tranello pazienza poi studiamo vediamo che succede la partita successiva sarei contento di affrontare quello schema ok va bene perfetto direi che ci siamo con un che sta prima adesso vado a dormire per 5 ore per riposare no adesso in realtà cioè appena riesco a liberarmi farò i miei adesso hai voglia di giocare io lo so come adesso hai voglia di giocare adesso hai voglia di giocare ho tutta la visualizzazione nella testa esatto perfetto senti Piero intanto ti ringrazio per questo primo incontro e spero che peraltro tutto quello che ovviamente stai spiegando a me possa essere utile alle persone che ci ascoltano che hanno persone magari di vari livelli in ascolto però sono concetti che poi possono veramente fare la differenza quindi sono molto curioso anche dei feedback nei commenti di tutti quelli che guardano questo video e per noi ci aggiorniamo prossima settimana un abbraccio ciao 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 buone partite Monti in bocca al lupo e sono curioso di vedere come cosa succederà cosa succederà ok prime prime quattro partite di scacchi di questa settimana ho fatto la mia prima lezione ho il mitico coach Pierluigi e mi ha detto Monti al massimo giochi quattro partite al giorno ma concentrato più un paio la sera così insomma per chiudere bene la giornata bene o male perché quando perdi poi la chiudi male quando vinci invece la chiudi bene comunque adesso voglio registrare questi quattro match e vediamo come va così abbiamo il percorso da oggi in avanti e vediamo cosa succede siamo pronti primo match io gioco 10 minuti questo è quello che gioco di solito rapid in questo caso parto con il nero schermone grande di solito gioco con cellulare avversario 1576 di avanti di me la mia difesa è una difesa Kavukan questo è come voglio partire e questa variazione che gioco non mi ricordo mai come si chiami Advanced Variation forse questo qua cerco di liberare il mio cavalluccio C3 la mia idea in questa visione qua è quella di come dire cercare di incastrare il suo cavallo in F3 sviluppare i miei pezzi tranquillo ora qua si pone un grande dubbio come al solito esco con il mio alfiere vabbè libera già qua sono fuori dal seminato perché io non lo giocherei così di solito preferisco quando lui esce con l'alfiere in esatto l'alfiere lì a questo punto quello che farei sarebbe ugualmente mettergli l'alfiere mio sul suo cavallo no ok let's go like that questa è una posizione che odio giocare perché non so mai che cazzo fare su questa posizione potrei andare a 4 per cercare di infastidirlo un attimino ecco vedi come non mi piace questo come non mi piace questa parte qua porca merda questo è sbagliato lo so che è sbagliato alfiere in e4 però voglio stimolare magari il suo pedone che viene avanti così almeno indebolisco un po' se arrocca colpo questa è la mia esatto almeno ha mosso questo pedoncino davanti ora ho un problema però come diavolo lo libero l'alfiere da f1 questa è la domanda proviamo così se marcia libero l'alfiere e vado a fare il mio arrocchino ok allora qui i don't know cerco di interrompere un attimino questa sua catena cinetica pedonale che non la vedo per niente bene mannaggia sento così assolutamente incerto beh a questo punto io mangio il cavallo e cerco di liberare via quest'area come la vedi ok aspetta 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 lui deve mangiare giusto now the big question is non a aspetta un aspetta un aspetta non aspetta i sto cercando in qualche modo di uscire da sta vicenda solo che non so come uscirne porca Eva questo è un po' il problema vorrei tanto arroccare così almeno ho quantomeno un minimo più di sicurezza di questa vicenda vedi ehm mi sarebbe molto piaciuto mi sarebbe molto piaciuto arroccare più due il mio avversario ecco in questa situazione non ho idea di cosa fare l'unica cosa che sto pensando è ok magari arroccare, sviluppare i pezzi queste menate qua insomma però non so bene dove andare qui cerco di proteggere sia questo pedone qua sia questo qua ma come insegnano i saggi usare la regina per difendere i pezzi non è mai il massimo giusto? questo è ovviamente un problema now we're gonna do a bar c'è questo diavolo di pedoncino qua che è molto minaccioso proteggo questo pedone con la mia torricella e da qua in poi good luck guys è stato bello crederci vedi questa partita qua è partita subito con un'apertura che non dici boh e che faccio? la vedi se blocco questo pedone così brutalmente e vado a raddoppiare di torre questo non ci piace questo non ci piace per niente la mia idea è raddoppio di torre se lui scende comunque sono coperto perché nel caso ho ho questo giusto però sono in una situazione che definire precaria è dire poco non so come la vedete voi ma a parte il tempo mi sembra un match abbastanza perso a meno che non abbiate suggerimenti migliori ce l'ho un'idea folle in realtà tra le idee folle la mia idea folle era questa qua capito mangiare lui deve mangiare e io entro dentro qua faccio una follia faccio una follia la mia idea è lui mangia di regina io mangio con scacco giusto a quel punto è vero che ho perso una torre recupero di qua oddio questo sarebbe anche potrei mangiare qui e provare a dargli in matto direttamente lui ha uno scacco ok è sempre più due in realtà questo ok that's not too bad now check ha uno scacco ovviamente qui due minuti e trentasette non vedo come la porto a casa questa francamente ma ma magari you never say never ok ho un altro scacco qua scacco man I'm just trying you see what I mean I'm trying my desperate move adesso può scendere con sta diavolo di regina ops è praticamente bloccato qua oh c'ho la show 2 che sta esplodendo aspetta ok scacco questo è chiaro qua non è che posso fare granché non posso fare granché non so come difendermi qua cosa faccio? salgo di qua maybe partita della disperazione la mia idea è ok scacco lui dove va può andare in realtà in vari posti uh really ok ok questo è il problema di essere degli amatori che non sai mai porca miseria come dargli matto poi questo tizio non c'ho tempo porca paletta aspetta 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 qua c'è una torre la CO2 sta esplodendo porca miseria lo devo scaccheggiare adesso questo è quello che devo fare potrei anche provare a prendere una patta come la vedete prendo una patta questa è la paura patto e basta arrivederci grazie no come on bro jeez non so come fa ancora sto disperatamente cercando di pattarlo no 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 dov'è dov'è nooo ho perso non so più dove andare porca miseria dove l'ho perso sto match sai che non lo so errori macroscopici che ho fatto questo avrei dovuto chiudere subito col pedoncino è un'apertura da cui io inizio subito male aspetta che apro la finestra è la CO2 è la CO2 non è colpa mia la CO2 è bastarda peccato perché comunque ce l'avevo lì in realtà a portata di mano alla fine vabbè ok questo è stato il mio errore finale cosa succede? facevo questo ah ok in realtà potevo mangiare la regina no potevo mangiare la torre ok livello del gioco 1450 in entrambe le parti vabbè senza infamia e senza lode si dice così? cioè più con infamia che che con lode a sto giro ma vabbè ok andiamo match 2 questa volta gioco coi bianchi in questo caso voglio provare la mia Giobava London cavallo C3 e vediamo che succede poi capito non so per la tastiera la scacchiera la tastiera la scacchiera è un disastro esco il mio alfieruccio in F4 e quando vedo questo la mia idea è 1 2 3 pawnstorm questo è quella che è un po' la mia strategia in questi casi qui ho sempre il dubbio se impedire questo tipo di ma dai facciamolo una mossa ulteriore che però di solito non non c'è in questo caso ignoro completamente questo questo attacco in C5 e cerco di andare col mio pawnstorm aggressivo per vedere se riesco a intimidirlo un attimo lui sembra ignorare ok let's see what you got di solito questo punto ha una di queste due mosse tipicamente ok questa in teoria non è una delle migliori I think but we'll find out la mia strategia si basa sull'idea di andare bishop in d3 che però se lui scende con questo pedoncino dà un pelo fastidio naso I don't know I honestly don't know now perché a me piace arroccare lungo in realtà cavallo a4 regina a5 pedone c3 vabbè proteggo semplicemente il pedoncino in b2 con la mia torricella il mio obiettivo è andare qui ecco vedi già questo non ci piace per niente non ci piace per niente questo perché a quel punto lui può mangiare qui o qua ecco vedi questo non l'ho neanche vista porca miseria ciazzuzza e in più mi attacca anche qua che è veramente fastidioso quindi facciamo quindi facciamo questa operazione qua lui ha a questo punto ok la mia idea capito è andare a cercare di creare una debolezza qua questo tipicamente è la mia idea sono giubbava sono però messo maluccio perché sto re in centro che ci fa re in centro quindi magari cerco di scappare di scappare diciamo in questa direzione I don't know sviluppo i pezzi sarebbe una bella considerazione in realtà era anche per coprire questo qui che fastidio quando fanno queste cose che fastidio però è vero o no? che fastidio proprio diciamo che ho avuto momenti nella mia carriera di giocatore che sono stati migliori questa è la considerazione che farei but what can I say? e qua non so veramente dove andare adesso ok sono un po' blue cat come si usa dire provo una mossa così se mangia magari guadagno un pedoncino questa è l'idea peraltro c'è anche questo ok forse non è stata così male questa mossa cosa dite? nice questa può essere una mossa interessante cerco di tenerli un attimo coperta questa il problema del giocatore di scacchi amatore è che tu arrivi in questa posizione e dici e adesso no idea no idea that's literally the main issue ho il re in centro ce l'ha anche lui il re in centro quindi questo è it's not too bad siamo entrambi centrosi però è un problema è troppo facile attaccarmi in realtà se ci pensi ok ovviamente lui può mangiare sto pedone qua la mia idea è diciamo creargli una debolezza dentro lì questo è un po' il mio piano ecco vedi probabilmente la debolezza è che pensavo che ci fosse la debolezza ma adesso la debolezza non c'è più porca Eva ok cose che può fare lui però qui sono coperto dal cavallo ovviamente ha questo pedone in presa facile però io qua come dire veleggio in un qualche modo ok questo in un qualche modo sono protetto lui ha questo attacco qua che però mangio con la regina la mia idea è che chiaramente se questa regina si sposta io arrivo inesorabile scacco e poi e poi boh chiaramente lui si può proteggere in un qualche modo è strano come a volte catturare un pedoncino ti sembra la mossa migliore invece sono questi pedoni avvelenati ecco in questo caso I like your move bro but cosa succede scusami se mangio io mangio così giusto dovrei essere sempre messo nel modo giusto in teoria ok sono più due più due e cambiamo allora giusto più due e cambiamo secondo me come insegnano i grandi maestri di scacchi I think that should be good ora lui dirà che cosa faccio qua raddoppio il mio attacco brutale e qua ho un'idea ce l'ho un'idea a dire la verità c'è questo che mi sta chiamando il il richiamo della foresta vedi questo è quello che voglio dire cosa succede quindi scusami no cambio vado in game se fossi un giocatore vero io vado in game e dico sono in vantaggio sì sono in vantaggio senti andiamo in game in fondo scusami c'ho una torre e un cavallo c'ho un cavallo in più porca paletta è vero no in teoria dovrei potermi in un qualche modo sviluppare come come non lo so però in un qualche modo dovrei potere cavalluccio cavalluccio dove lo metto dove lo metto ovviamente ha questa torre fastidiosa cerco di andare a uno scacco qua magari magari mi sposto da qua come la vedi prima che lui scenda e mi mangia anche la mia torricella ok intanto mangio questo forse non è stata la massima mossa potenzialmente potenziale should I eat or not avanzo col pedone strategia geniale avanzo col pedone così almeno metto davanti il cavallo perché ho letto che i grandi maestri bloccano sempre col cavallo in un qualche modo l'avversario questo non mi piace tanto però porca miseria ecco qua non so bene cosa fare hai vinto ma data vinto non ci posso credo vittoria ero totalmente perso su questa totalmente perso non avevo la più palida idea di cosa fare boh in realtà sarei andato qua forse oppure potevo mangiare questo pedone però poi lui mangiava il mio mi dava scacco man 23 ha capito lui secondo me ha capito che non ce n'era sto giro prossimo match terza partita let's try that ok gioca siamo contro 1466 io parto con la mia caro can classica c3 d4 e qui c'è l'idea di fare questa tarta cover variation dove io a quel punto vado a fare questa operazione qua let's try that let's try that se non mangia sono un po' perso ecco questo piccolo dettaglio ecco non ha mangiato e adesso sono un po' perso so che c'è una roba che in sostanza questa colonna h in teoria dovrebbe andare su e dare fastidio però io non so come funzioni quindi cerco di giocare più classico pinno questo cavallo alla regina questa è l'idea sviluppo il mio pedoncino in e3 esco o in e2 o in d3 con l'alfiere e a rock arrivederci grazie questa è diciamo l'idea mia strategica qua so che in teoria soltanto se ho una minaccia sulla destra o un cavallo o un alfiere dovrei mangiare ma siccome non so mai come muovermi coi pedoni io mangio con i cavalli i cavalli mi mettono un enorme disagio quindi sviluppo i pezzi metto al sicuro il mio reuccio e poi ne riparliamo questa è la mia idea ok in questa posizione ho il problema che non so mai da dove far sbuccare fuori il cavallo questo qua in b1 ho questa idea chiaramente se no potrei esco di qua dai uh arrocco lungo a me piace tendenzialmente giocare con i giocatori che vanno arrocco lungo così quindi parto aggressivo all'attacco siderale e la mia idea è di di scatenargli addosso un trionfo di pedoni pezzi andare a essere brutalmente aggressivo questa è l'idea and we'll find out if it works or not cosa succede se right ho questa idea di mettergli l'attore davanti al re così perché mi piace questa idea e forse provare a aprire questa parte qua non lo so I'm a bit in doubt sono un po' lento nello sviluppo avrei dovuto probabilmente velocizzare un po' sta vicenda la mia idea è quella ovviamente di aprire qui no hop hop non so cose così come ho mosso così senza neanche pensarci magari è proprio una mossa di cazzo non so però mi sembrava non mi piace ovviamente avere questo tipo di scacchetto qua però sono abbastanza protetto insomma c'ho uno due tre voglio dire let's see un'altra idea che sto contemplando è quella di fare anche un sacrificio prima o poi di questo bishop per aprire io proseguo inesorabile ti piace questa idea così qui ricatturo di cavallo in ogni caso ok c'ho questo scoperto dici che è arrivato il momento ah no è arrivato il momento dai proviamo così se lui mangia io rimangio col cavallo cavallo qui vorrei chiaramente aprire questa posizione qua non la voglio chiusa reuccio reuccio delle mie brame io vado così diciamo qua devo mangiare però la mia idea è la seguente aspetta che qua comunque c'è scacco giusto tu dove vai da lì my question devi mangiare devi mangiare amico mio right quindi l'idea è rientro porto via questo alfiere scacco ok dai facciamo così if you really believe cioè è più tre lui comunque in questo carciofo qua ok non sono in una posizione meravigliosa però si è bilanciata direi che si è bilanciata a questo punto quello che posso provare a fare è magari attaccare questo pedoncino non sarebbe male or you tank lo attacco così in scioltezza no la mia idea è che non può mangiare non può andare avanti e qua comunque ho un alfiere e anche l'attore che peraltro ha uno scacco su questo appena mangia quindi forse dovrebbe battere e ritirare a terra immagino poi vorrei centralizzare la mia torre qui e provare appunto a a incastrarlo in un qualche modo sto reuccio che è lì che dice vabbè ma che fa mangio because why not questo anche is coming ho la camera che ha cominciato a sfarfallare fa un rumore strano è come se ci fosse qualcosa forse un meccanismo dell'autofocus o non so sa che sta per saltare non sarebbe la prima volta che mi capita un'altra macchina che avevo un giorno ho accesa non si è mai più accesa non ho cercato su youtube per anni come fare a sistemare eccetera non si è mai riuscito hai vinto anche qua ragazzi ma perché abbandonate è incredibile come uno abbandona ma non lo so il motivo perché io non saprei come proseguirla qua però ero vabbè indiscreto vantaggio non clamoroso vantaggio all right thank you so much e andiamo alla quarta partita mai più di 4 è to coach e quindi gioco la mia quarta partita al momento una persa e due vinte per abbandono abbandono non avrei mai pensato a vincere partite per abbandono e attenzione attenzione questo signore è un 1603 vediamo questa volta questa advanced variation come va cavallo esce in c3 l'idea è ovviamente prendere un po' il controllo del centro pinnare il cavallo questo cavallo qua pinnato se mi minaccia io mangio in questo caso sviluppo e blocco anche lo sviluppo suo qui ecco qua mi sbaglio sempre perché distinto io andrei su qua subito solo che poi mi ritrovo esattamente nella stessa posizione di prima porca paletta che è una rottura clamorosa lo faccio e chi s'è vista e chi s'è vist s'è vist chi s'è vist s'è vist e che a me non piace mai giocare il fianchetto qua no? questo non mi piace mai to eat or not to eat this is a question è una posizione che non mi piace per niente in generale ok faccio così mangio ok e a questo punto ho questa mossa che non lo so perché ma mi sembrava figa perché minaccio entrambi capito? in teoria o no? sì no in teoria minaccio entrambi scusa minaccio entrambi sì mangio cavallo esce io vado a prendere questo giusto? deve mangiare con la regina perché sennò rovina ovviamente la sua posizione questa peraltro mi sembra una buona mossa no? cioè è scacco più prendiamo la torre we're gonna get it bro alish 1-9-9-9 I don't know what do you think? come la la proteggi questa torre qua? non mi sembra che la puoi proteggere è chiaro che sono in un netto ritardo di sviluppo c'ho ancora tutti i pezzi appesi però è anche vero che non vedo uno scacco immediato da qualche parte quindi potrei andare a recuperare questa torricella e poi a quel punto nulla sviluppo i miei pezzi normale arrocco arrivederci sognatori what do you think? 1603 classifica poi non vuol dire niente perché io ho avuto credo un miglior livello 1600 qualcosa però poi sai sei lì in un momento non sapendo bene le regole infatti spero veramente con Pierluigi di imparare le fondamenta degli scacchi perché questa impresa anche il problema che ho quando mangio con la regina è che poi mi perdo via mi incastro da qualche parte quindi spesso ho notato che conviene battere in ritirato una volta che hai mangiato torni indietro e dici scusate torno un attimo a casa a fare un pit stop però al momento più 5 ecco not too bad not too bad dopodichè vorrei sviluppare i miei pezzi tranquillo easy vediamo lui dove si imbosca con la sua reginozza a questo punto io cambio volentieri o la regina cambio volentieri in realtà sviluppo i pezzi sviluppo i pezzi e poi ne riparliamo provo provo approvo no facciamo che prima arrocco e poi provo volevo andare cavallo g4 per provare un matto clamoroso ho notato che cioè però più sale di livello più non riesci mai a farle ste cose che non sarebbe male no mattuccio così ecco questo non mi piace avere una regina davanti così quindi questo è un problema che vorrei risolvere risolvere mi ritiro qua per il momento così se lui ha questa vaga idea io sono già protetto col pedone voglio arroccare e poi ne riparliamo e coltivo vagamente questa idea comunque o you think coltiviamola l'idea in ogni caso questo me lo vado a portare via che mi dà fastidio quell'alfiere lì non mi piace urca what about that bro allora regina esce I don't know what do you think arrocco prima lui ha questi pedoni qua che arrivano minacciosi questo è l'unico problema che vedo vabbè scacco just in case l'unica mossa forzata che ha è questa mangio perché se no mi pappa con la torre wait aspetta però io questo scacco giusto sai cosa I'll do this perché mi piacerebbe questa mossa qua in realtà non so ecco un grande problema che ho è che non so bene come chiuderle le partite perché qua sono più nove porca Eva cioè più nove dici come la chiudo I don't know I just don't know guarda che è brutta eh cioè l'ignoranza è una roba brutta questa è la verità senti facciamo così arrocchiamo gli picchiamo questa davanti così da dire guarda nel caso nel caso ti arriva una torrella sulla tua reginella e poi basta cioè dovrei semplicemente cambiare qua e festa finita insomma senza senza impazzire penso no? cioè dovrei boh check un giocatore bravo l'ha già chiusa venti minuti fa se d'accordo ad esempio questo ho completamente non visto che era protetto due volte non ci posso credere non ci posso credere fork una cosa che voglio veramente chiedere a Pierluigi è come si fa a vincere come dire match già vinti no? cioè come si fa a vincere partite già vinte questa è la mia domanda di base questa è una partita dove sei più sei più no cioè e dici ma com'è possibile comunque gli ho preso questo tempo giusto così per pappare via questa questo alfiere c'è un matto chiaramente che vado a prendere qua che non mi piace non mi piace per niente qua non posso mangiare peraltro what's the easiest way to do this I don't know. Scacco, mangio. Cioè, quantomeno lo ostruisco. Questa era una mia idea di ostruzione. Ok. I don't know. Ecco, da qua in avanti sono perso, completamente perso. I don't know. Non vedo sto cavallo esattamente dove può andare. Ok. Maybe here. Dovrà muoverlo, no? Dopodiché, cosa fare? Boh, mi piacerebbe sviluppare sta attore. Mi piacerebbe andare qui per avere magari uno scacchetto di scoperta. Prima che vai alla regina davanti al re, ad esempio, una cosa che mi sarebbe piaciuta era... Era quella di mangiare questo pedone che era in presa prima, andare con l'alfiere di qua. Oh, ma che brava. Jeez, I mean, it's really annoying this. Oh, aspetta. Allora, ho l'alfiere in presa, vero. Però è anche vero che minaccio la regina qua. Quindi da qualche parte devi andare, giusto? I think. Allora, ho l'alfiere in presa. Dove potrebbe andare qua, forse? Può chiaramente mangiare questo alfiere. That's part of the problem, but... Come la vedete... Uh, vedi? In questo caso va a mangiarsi la sua... Unisco le torri, giusto per dire, oh, nel caso, se vuoi venire a darmi il matto, comunque c'è l'altra torre. Ecco, questa è un po' l'idea di base. I don't know. Comunque 1600, adesso non so qual è la sua migliore classifica, ma oggettivamente... Disallineo le torri. Parca miseria, mi sa che già sto facendo l'errore drammatico. No, non le disallineo. Per massima sicurezza. Ok. In teoria qua è matto in una. Cioè, lui può mangiare, mangio. Scusami, mangio con l'altra torre, è festa finita. Giusto? Un minuto trentadue. Ce la farà il nostro Monti a dare uno scacco con più undici, senza essere mattato. Voglio vedere poi qual è la sua migliore classifica di questo Allish 99. Perché comunque secondo me ha giocato bene. Considerando, ecco, che ero molto avanti. I want to see what's happen. Due minuti e zero uno. Urca. Urca. Però, scusami, scacco. Per me è così, giusto? Scacco. Scacco. That's it. Ok. And scacco. Mangiamogli un po' questi pedoni. Cosa dici? Just in case. Scacco. Scacco. Dopodiché vado, proseguo così. Ora, l'errore che posso fare classico è quello di... Di... No, non l'ho fatto. Vittoria. 1581. What do you think? No, stavo per dire, l'errore classico che posso fare è che poi sei in vantaggio e finisce che diventa patta perché non ti rendi conto che il re non si poteva muovere. Beh, insomma, però ce l'ho fatta. Bene, queste le mie prime quattro partite. Vinte tre e una persa. Diciamo un po' un match, una serie di match un po' così. Due vinte per abbandono, secondo me, meritatamente. Questa era stravinta, quindi la cosa da chiedere per Luigi è... Quando sei in enorme vantaggio, ma com'è possibile che vai a perdere partite e hai già vinto? Ho rischiato, ho fatto un errore, il clamoroso lì. Ci vediamo alla prossima. Road to 2000. Cento.